C'è stata un po' di maretta, alcuni genitori, la mamma sono intervenuta e hanno detto ma cos'è questa storia che il plesso San Francesco viene trasferito in via Catusi e noi che fine facciamo? Dobbiamo trovarci un'altra soluzione? Qual è la spiegazione? No, assolutamente no, sarebbe veramente anche quella una cosa improponibile. È evidente che il plesso Catusi sarà occupato dagli alunni che sono usciti dal plesso Catusi e che in questo momento sono ospiti in parte a Sant'Agostino e in parte a Loreto. Quindi è evidente che la scuola deve essere, deve tornare agli alunni che sono usciti da lì. Se ci sono spazi adeguati per poter accogliere oltre agli alunni che già erano a Catusi anche gli alunni del plesso San Francesco potrebbe essere una soluzione anche territorialmente compatibile.